faccio finire a voi io do il mio tocco d'artista per iniziare il lavoro e poi finite voi perchè c'è dentro... c'è dentro uno slime confermi tutti gli stereotipi della gente del studio e laura male ah sono architetto il mio non lavoro meglio di quello manuale l'ho creata io la struttura mi vedo male non è perfettamente simmetrica eh vabbè minchia stanno finendo i nuovi blocchi no ma io ho ancora un sacco io ho 40 quindi devo andare a riprendere io ho altri... altri 600 li ho da fare hanno altri 1000 poi ci dovremmo fare un video non ufficiale e postarlo qualche cosa di terraria perchè non credo che qualcuno abbia avuto un'idea così assurda nel gioco è vero è vero c'è da fare una mega dora un momento però devi riempirla eh dobbiamo riempirla prima possiamo diventare ricky con quelli video si no non ho più blocchi aspetta che li creo per tutto servono anche tipo un centinaia di luci verdi perchè ce ne sono a spiapiano ce ne sono 4 anzi 3 3 3 a piano 150 dai io ce ne avevo 99 no c'è una parte peraltro le luci adatte per il cimitene sono quelle a teschio però non ne avremmo mai così tante non so cosa ci vuole per farlo non so cosa ci vuole per farlo no ancora il vermone di merda pensavo si fosse stinto poi quando muori ti segue sotto appunto non ha senso non trovo più neanche la mia arma non trovo più neanche la mia arma allora è quasi morto ah l'ho ucciso non so come bu si ma fra poco finirà la pietra dai c'è nella cassa beh si va a scavare al massimo mi ha ucciso e riempirà nella roba vedete dove si fa poi ci si può incidere anche tra di noi che comunque le tombe le crea si è solo un troppo ai soldi non ci vuole è